Avete mai fatto sesso occasionale? Non lo so, perché non capisco cosa intendi per sesso occasionale. Sì, ma non mandarmi in parash così subito adesso. Non so, sesso privo di sentimenti? Sesso privo di sentimenti, allora direi di sì, però non lo so, devo parlare già adesso. Dovrei parlarne? Non lo so. Ma fermati un attimo, adesso, sigla! Sexy Box Sexy Box Sexy Box Sexy Box Sexy Box Sexy Box I've decided to put my arms around you Sexy Box Ciao a tutti e bentornati a Sex Box Talk. Io sono Giulia e con me ci sono Jacopo e Ale da questa parte del divano. Dall'altra parte, a intrattenerci e dirigerci, ci sono le bellissime, fantastiche Ale e Nati e con noi sempre magnifica la nostra personale sessuologa Gaia Polloni. Cioè, raga, che chapeau. Adesso anche host, cos'altro? Siete stupendi, oltre che dei grandi chiacchieroni, perché loro già se la raccontavano, eh, nell'intro, insomma, del sesso occasionale, tu lo fai, tu non lo fai. Questo è il tema del giorno, si è capito. E noi, insomma, tra le nostre chiacchiere amiamo molto parlare anche di quelle che sono le pratiche, i comportamenti erotici, però eravate un po' confusi su questa idea di sesso occasionale, perché ho sentito Giulia che diceva sesso senza amore e, insomma, l'Ale che era anche abbastanza, insomma, fuori fuoco rispetto a questo tema. Allora entriamo, focalizziamoci, diamo una definizione di che cosa sia il sesso occasionale. Gaia, è il tuo turno. Allora, per sesso occasionale intendiamo il sesso sganciato dalla componente affettiva ed emotiva, quindi possiamo dire sesso senza sentimenti, però può essere declinato in varie maniere. Per esempio, il tipico one night stand, quindi incontrare una persona, farci sesso una sera e non rivederlo più. Sesso occasionale inteso di qualche volta faccio sesso con una persona, una persona che magari conosco, una persona che ho appena conosciuto. Essere fuck buddies o friends with benefits, quindi avere un amico o una persona che conosciamo con cui occasionalmente, più o meno frequentemente, facciamo del sesso, ma anche avere una relazione affettiva stabile, quindi un compagno o una compagna, essere sposati e occasionalmente fare sesso con un amante oppure fare sesso con una collega di lavoro. Cerchiamo di capire un po' di implicazioni. Io vedo già che Jacopo è pronto lì. A me raga non convince che il sesso occasionale è quello senza emozioni. Sarà per esperienza personale, però non mi convince, non lo so. Io stesso, perché comunque, cioè com'è che finisci a far sesso con una persona senza provare un'emozione? Ci deve essere la volontà dietro. Bella questa riflessione. Molto interessante. Ma infatti direi che questo è sulla carta, Ale e Jacopo. Poi nella realtà le cose vanno diversamente perché non è così semplice controllare le emozioni. Penso che ogni persona poi abbia i suoi limiti per cercare di non coinvolgersi. Chi si dà dei limiti temporali? Ad esempio, tante persone dicono io più di tre volte non la vedo. Oppure dei limiti fisici. Quella pratica la faccio solo col compagno ma non la farei mai con una persona con cui faccio sesso occasionale. Oppure ancora il sesso sì ma le coccole no. Oppure il sesso sì ma non dormiamo assieme. Quindi dei confini. Oppure ancora dei limiti rispetto magari ai contatti. Il mio numero personale non lo darei mai ma do il numero di lavoro. Quindi ognuno cerca secondo me di proteggersi. Bisogna fare una tabella Excel perché altrimenti ci si perde. No, ognuno cercherà di proteggersi a suo modo ma come giustamente già i ragazzi hanno sviscerato non sempre possibile. Ma io direi, abbiamo parlato prima di realtà. Ci sono varie realtà perché poi alla fine siamo esseri umani, siamo unici. Io direi di andare un po' in strada perché abbiamo sguinzagliato la nostra sefora di spam che ha raccolto un po' di opinioni proprio sul sesso occasionale. Sentiamo un po'. Cosa ne pensi del sesso occasionale? Ma secondo me è una cosa sì, abbastanza diffusa. A livello universitario capita spesso. È molto frequente. Evidentemente alla maggior parte delle persone piace. Se piace a loro, bene. Secondo me c'è un po' questo stereotipo del fatto che il sesso è qualcosa di serio. Il sesso legato ad una relazione può essere un grande impegno. Con la scuola magari non si ha tempo. Mentre se hai bisogno di fare, diciamo, qualcosa di occasionale può essere qualcosa di anche divertente. Perché a me non piace non conoscere l'altra persona. Faccio un po' il becchio della situazione. Secondo me ci sono troppi da porti occasionali. Infatti i ragazzi non si preoccupano neanche più delle matri. Si divertono nel farlo, però comunque è una via di trasmissioni. Ma penso che l'università comunque sia istruita su questo. Andare con una persona che non conosci, secondo me non ti aiuta a conoscere il tuo corpo. Con uno sconosciuto, al solito, non fai cose nuove. Viene più facile una relazione. Le relazioni non le influenzano perché secondo me sono cose completamente diverse. Secondo te manca qualcosa alle relazioni occasionali? O hanno qualcosa in più? Eh, hanno... Io sono fidanzato, quindi... Ah, eh. Però... Invece c'è qualcosa che manca nel sesso occasionale? L'intimità. È qualcosa che va abbracciato con la relazione. Il rapporto occasionali ci sta, le persone devono fare esperienza. Però secondo me è diventato troppo superficiale. Ci perde anche il gusto. È semplice e, come ho detto, non perde troppo tempo. Il sesso occasionale, comunque, il fatto che esista è per il tradimento. Arrivi a tradire per semplice piacere fisico. Quando una persona vuole tradire, la dice a Piscina, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella coppia, quindi non è il rapporto occasionale che fa il problema. A te darebbe fastidio stare con una persona che in passato ha avuto una lunga carriera nel sesso occasionale? No. Sì, c'era no. Il passato è passato e non ci interessa. No. Se io poi conosco quella persona, non è un problema. Preferirei non sapere troppi dettagli. Ragazzi, ne abbiamo sentite veramente di ogni. A un certo punto siete un boato, una resata. Rispetto a queste dichiarazioni e questi commenti, come vi ponete? Giulia? A me ha fatto ridere. No, ma io sono fidanzata, quindi non mi posso esprimere. Dopo aver detto sì, no, ma il sesso occasionale è molto... No, io concordo molto con alcune delle cose che sono state dette, ma non tanto con il sesso occasionale è fatto per tradire. Cioè, allora io personalmente sono una di quelle che tipo non potrebbe mai fare sesso occasionale, perché soprattutto quello inteso come, visto che Gaia li citava, tipo la one night stand. Cioè, metti che questo parte appunto, a me viene l'ansia per tutte le possibili malattie, si rompe il preservativo, devo andare a prendere la pila del giorno dopo, eccetera, le malattie sessualmente trasmissibili. Però tipo, metti che mentre lo stai facendo, questo mentre viene, tipo, che ne so, fa il rumore di una capra, tipo di parte... E tu si tipo, smetti tipo di provare il piacere, l'ansia, raga. A Giulia non piacciono le sorprese, insomma. No, sono della vergine, ragazzi. Cioè, mi piacciono le sorprese. Cosa, tutto, deve filare, ok. Però, cioè, io sono anche quel tipo di persona che per me non funziona, se per te funziona, sei liberissimo di farlo. Quindi non capisco perché debba andare a braccetto sesso occasionale, tradimento. Capisco che ci può essere il legame, ma non capisco come possa essere solo quello. Perché sesso occasionale per me può anche essere io single, non voglio una relazione, che ne so, faccio la mia one night stand, ho il mio fuck buddy, vado in vacanza, tipo, due settimane e faccio sesso con l'altro tipo che è in vacanza per tutte quelle due settimane e poi basta, anche chi si è visto, si è visto. È vero che magari capita che, appunto, c'è il tradimento che può essere occasionale, però nel senso... Secondo me sono due cose completamente diverse, correggetemi se sbaglio, forse questa è solo la mia opinione. Sono della tua scuola, Giulia. Nel senso che, secondo me, in questo video hanno un po' stigmatizzato il sesso occasionale, hanno fatto trasparire il fatto... Cioè il tradimento non è sesso occasionale, è tradimento, nel qual caso volessimo entrare in questo discorso. Però se posso spezzare una lancia a favore del sesso occasionale è proprio dovuto alla mia esperienza personale. Penso ad una in particolare in cui adesso conosco questa persona che è molto lontana, vive molto lontana da qua ed è stato sesso occasionale per forza, perché la distanza è assolutamente incolmabile. Però da questa one night stand è nato un rapporto umano molto profondo e di grande condivisione della vita di uno e dell'altro. E in realtà faccio molta fatica a pensare che sarebbe potuto succedere se non fosse scoccata questa sorta di scintilla all'inizio. Se volessi far partire il momento verità, è la vostra occasione. E allora Jacopo, attento, che ti faccio partire alla sigla del tuo momento verità. In breve, la vicenda. Poco tempo fa, pochi mesi fa, dovevo affrontare questo viaggio in treno verso Roma. Nel viaggio conosco questa ragazza, molto per caso, stava anche a qualche sedile di distanza, però notiamo uno scambio di sguardi e nell'alzarci più o meno contemporaneamente riusciamo a prendere parola l'uno con l'altro. Parliamo per tutto il viaggio e scopro che pochi giorni dopo sarebbe venuta a Roma anche lei perché stava facendo una vacanza in Italia, lei di origini centroamericane. Ci siamo trovati a Roma, abbiamo passato una serata dove, e allora in realtà, potevamo intuirlo probabilmente, dove saremmo andati a finire. Però è stata molto bella perché, insomma, abbiamo parlato, visto la città, una piccola parte della città, e ci siamo incontrati. La mattina dopo, lei doveva andarsene e se n'è andata. Nel tempo però siamo rimasti in contatto, la sera stessa siamo riusciti ad aprirci moltissimo, molto di più magari che non faccio con amici o con parenti stretti e viceversa ha fatto lei e questo ha creato un legame che secondo me, in un'occasione in cui la persona la devi frequentare più spesso, magari non carnalmente, ma perché la vedi più spesso nella vita o comunque più partecipe, non lo so, nelle altre esperienze di una breve vita per ora di poco più di vent'anni non mi è capitato altrettanto. Beh, questa è praticamente una modalità in cui può evolvere quindi un incontro occasionale perché prima parlavamo forse dell'evitamento, ovvero Gaia, questa cosa di preferire magari delle relazioni di questo tipo per evitare il coinvolgimento. Poi ci sono invece storie che si attacca con questa cosa che ti prende in questo momento, è sconosciuta, ma stiamo condividendo comunque la stessa energia, lo stesso mood e perché no, questa cosa ci azzecca, ci sta. Però sai cosa mi hai colpito? Perché tu hai detto la devi frequentare, quindi è anche interessante questa visione che si ha se si ha una persona e magari bisogna bisogna frequentarla invece di vederla, no, quella volta e quindi è come se investi il tutto che puoi. In quell'attimo, Lise. Sì, ci sono diversi elementi che emergono dal momento verità di Jacopo. Sicuramente anche il fatto di sapere, insomma, che vivi in America e che probabilmente non la rivedrai facilmente e il sapere che il tempo stava scadendo, che si approcciava alla vostra separazione, ha intensificato il vostro scambio emotivo e la distanza è sicuramente protettiva. Perché l'altro aspetto è nel momento in cui io so che quella persona non la rivedrò, forse mi posso anche permettere di tirare fuori degli aspetti di me o un livello di condivisione più profonda proprio perché appunto so che non la rivedrò, quindi temo meno il giudizio o le ripercussioni. È un bel risvolto questo che emerge. A me però è anche sembrato che, Jacopo, dimmi tu se sbaglio, che avendo vissuto forse uno dei momenti più intimi che una persona può vivere insieme, perché hai parlato che comunque dopo è nata una grande amicizia, comunque un grande coinvolgimento, non amoroso, se ho capito bene, ma comunque di amicizia e di reciproco capirsi, forse grazie a questa intimità che avete vissuto insieme si è riuscito a creare questo aprirsi perché vi eravate già visti nel momento più delicato che una persona magari può avere? Esatto, esatto, penso che sia grazie all'intimità che, come anche ha detto Gaia, che il tutto è esploso dal momento in cui è esplosa l'intimità fra le due persone e io non lo definirei in altro modo che è un rapporto occasionale questo e però senza questa occasione senza questo caso è un'intimità che difficilmente esplode e che non ho visto esplodere facilmente né intorno a me né con me con persone che si frequentano per più tempo. Hai usato il termine intimità, Jacopo? Secondo me non ha caso. Questi sono rapporti, relazioni in cui è molto difficile che si entri nella sfera intima dell'altro forse perché c'è molto il tema del controllo non voglio perdere il controllo voglio vivermi la cosa così com'è spesso c'è anche proprio un corredo affettivo diverso meno baci meno carezze e invece in questo caso posso farti una domanda molto intima a proposito ma voi avete avuto uno scambio anche appunto di baci e carezze cioè ti sembrava proprio di avere un'intimità con una persona che quasi già conoscevi? Assolutamente sì che può essere paradossale nella questione però l'ho già accennato qua e là negli anni con le puntate che è il mio stile era anche il suo forse anche per questo ci si è trovati semplicemente ed è stato assolutamente possibile condividere tutta l'intimità possibile Quindi non bisogna confondere Gaia occasionale con superficiale Assolutamente Eh perché prima emergeva anche questo esatto la superficialità forse nel box di Sephora qualcuno parlava proprio di superficialità Giulia Riprendendo l'inizio della puntata volevo chiedere ad Ale lui cioè perché mi hai detto che non sei sicuro di averlo fatto se intendiamo appunto il sesso senza sentimenti pensi di averlo fatto puoi raccontarci la tua esperienza perché mi sa che qua io e lui siamo un po' particolari Sì no allora posso spiegare Aspetta Ale ma vuoi la sigla anche te? Non per forza Non è un momento Ok va Non è per forza un momento verità Quello a cui mi riferisco io è il fatto di semplicemente pensare a questo rapporto questi rapporti avuti a posteriori e realizzare che effettivamente dalla parte mia volontà e emozione qualcosa di mentale oltre al fisico c'era c'è sempre stata magari che non è appunto sfociata proprio nell'intimità quella proprio che si può costruire solamente secondo me con una relazione che dura del tempo che è duratura però secondo me per finire a fare sesso con una persona è necessario che in qualche modo ci sia questa sorta di collegamento cioè non mi potrei mai immaginare adesso ovviamente perché adesso lo dico in un momento in cui ho 23 anni sicuramente avrei risposto in modo diverso magari in un'età un po' più giovane preso dagli ormoni 16-17 anni ma adesso io non è che non mi sentirei di fare sesso con qualcuno di cui non so niente di cui non voglio sapere niente di cui voglio restare completamente distaccato questo intendevo un sesso così distaccato però molti riescono invece a viverlo anzi forse è più una necessità evitarlo questo coinvolgimento dicevamo perché invece il coinvolgimento non sa evitarlo come appunto evitare questo rischio di rimanerci sotto tra virgolette poi si dice che forse siano le donne le ragazze a essere un po' più sottone forse così come insomma gli uomini invece sono tacciati di essere quelli dell'amore mordi e fuggi una botta e via come si suol dire si sta diffondendo molto il termine simp tra gli uomini bravo che è appunto un po' una trasposizione del termine sottone al maschile quindi trasversale che chiaramente esprime una sorta di succubanza nei confronti della donna ecco ma se c'è invece questo coinvolgimento come lo si gestisce se si sa che magari invece dall'altra parte non c'è questo interesse ad andare oltre il rischio sicuramente è quello di soffrire perché due persone partono si presume con gli stessi appunto presupposti quindi ci divertiamo ma cerchiamo di non coinvolgerci poi le cose non vanno sempre così se uno dei due si coinvolge dovrebbe cercare anzitutto di ascoltarsi e non negare un eventuale innamoramento infatuazione e rispettarsi per questo cercando di proteggersi quindi se dall'altra parte magari può provare a parlare all'altra persona ma nel momento in cui dall'altra parte c'è un rifiuto o comunque una chiusura proteggersi ecco quindi il rischio dell'illusione comunque c'è attenzione poi sono anche cambiati un po' i luoghi lo vogliamo dire dell'incontro molto cambiati quali sono Nat? beh ci sono tutte le app di incontri quindi li possiamo citare ci può essere Tinder ci sono le app anche per non so la comunità maschile Grindr eccetera eccetera ma io direi che verrebbe la pena ascoltare ancora la nostra inviata speciale Sephora che ha raccolto altre testimonianze in strada sentiamola trovi che ci siano degli spazi dove trovare il sesso occasionale? soprattutto Tinder applicazioni come quello dagli amici che ho conosciuto lo usano solo con quello scopo ma no quando capita capita se in vacanza ho un bagnisco lega dove vuoi Tinder ma anche Instagram basta scrivere mettere un mi piace su Tinder puoi trovare persone un po' strane puoi trovare persone però open mind potrebbe nascere magari un'occasione o comunque una specie di avventura fine a se stessa oppure chi lo sa magari anche va oltre facilitano diciamo il fatto di trovare un'altra persona con questa mentalità conosco anche coppie che si sono create su Tinder in discoteca vai lì incontri una persona però la incontri non la conosci anche perché io non sento mai un c***o in discoteca c'è una musica troppo alta ecco queste erano le testimonianze dei ragazzi che ha raccolto la nostra Sephora per strada beh a proposito delle dating app ce ne sono tante c'è Tinder c'è Grindern ecco come sono cambiate queste cose anche ai tempi nostri diciamo che con l'avvento di internet appunto di tutte queste dating apps e questi social appositi sicuramente è più facile andare dritto al sodo quindi è più facile cercare delle occasioni o delle situazioni con una persona che si presume voglia esattamente la stessa cosa e anche scremare quindi io faccio swipe trovo una persona che in base alle foto e alla bio sembra essere nei miei gusti ma magari poi a seconda anche dell'app posso entrare ancora più in intimità quindi anche guardare i genitali se penso alle app magari tipo Grindr e posso anche addirittura geolocalizzare quindi sei vicino a me hai voglia di fare qualcosa ci vediamo ok quindi tutto più veloce e tutto più dritto al punto che è molto diverso se pensiamo ai nostri tempi uno usciva una sera aveva voglia di sesso occasionale ma non sapeva chi avrebbe trovato se sarebbe eventualmente stato corrisposto eccetera eccetera l'elemento sorpresa proprio siamo in lato in questo caso no però c'è un elemento sorpresa nel senso che poi quando ci si incontra le cose possono andare in maniera molto diversa quindi noi incontriamo una persona e può essere diversa da quella delle foto può essere quella delle foto ma avere un odore per esempio che non ci piace pensiamo alla puntata della seduzione abbiamo parlato di quanto è importante l'odore dell'altro quindi la chimica può avere un tono della voce che non ci piace un modo di porsi che non ci piace quindi ci può essere una non compatibilità senza menzionare peraltro anche i rischi in cui si può incappare possiamo incontrare una persona pericolosa o insomma anche soltanto che magari non vuole usare delle precauzioni che rimuove il preservativo il famoso stealthing durante l'atto e quindi c'è anche una componente di pericolo super incognita l'incontro con l'altro Giulia ragazzi voi in realtà appunto di tindere così ho delle esperienze cioè voi l'avete un po' presentato come questo posto in cui è super facile super veloce trovare appunto una persona con cui avere rapporti occasionali e non perché ho fatto attenzione durante il servizio di sefora che comunque c'era gente che citava che alcune coppie che conoscono si sono formate su tindere io ne conosco diverse però io in realtà appunto ho diversi amiche e amici che hanno fatto uso di tinder bambole affini insomma per cercare una relazione quindi forse un po' diverso dal rapporto occasionale e il mio amico che l'ha provata è durato veramente tipo neanche una settimana e fa io raga cioè c'era solo gente che gli piaceva fare tracking fa non so se ero io sfortunato che trovavo soltanto sti mega appassionati di trekking con le foto in montagna e così via però appunto era l'unica cosa che aveva trovata mentre appunto la mia amica che lei appunto la relazione che ha in questo momento è nata dal da questo incontro su bambole mi sembrano un tinder comunque ha dovuto parlavamo di geolocalizzazione in realtà il suo ragazzo abita tipo a 200 chilometri da qua e lei l'ha incontrato cioè si sono trovati su bambole una volta che lei era a Zurigo dal fratello e quindi in realtà geolocalizzazione è poco mi viene in mente lui e l'americana sul treno perché comunque rimane questo fattore che se ti sposti rischi anche di trovare la persona che però è lontana da te è vero che la comunicazione ti facilita il lavoro quindi i social e così si rimane in contatto però non è detto che rimanga così dipende anche lì che uso ne fai nel senso che se cerchi una relazione è una cosa ma se vuoi fare stesso occasionale tu tiri fuori il grinder e cerchi la persona più vicino a te se ti piace ci si incontra che poi ho notato parlando con diverse persone che l'hanno utilizzato e sentendo esperienze appunto di altre persone in America ho notato che in Europa e in America c'è un uso proprio diverso di queste dating apps ho scoperto appunto tornando a parlare di quelli che facevano trekking e così che lo mettono tipo nel profilo che ne so tipo amante delle Alpi e trekking e così per non farsi vedere come magari persone lazy quindi pigre o che poco sportive quindi il solito pantofolaio e così via mentre in America è vero vabbè che appunto penso che ci sia un uso più massiccio proprio in generale quindi più gente che lo utilizza ma molta più gente che appunto lo usa anche o per le one night stand o per fare amicizia e lì veramente si trovano i profili di tutti i colori mentre qua c'è un po' più lo stampino forse ma forse anche un po' la stigmatizzazione del ah io no la dating app mai e quindi si crea una niche una nicchia di persone che la usano un po' cioè che solo quel tipo di persona la usa magari ma quindi dite che è nicchia a me sembra un fenomeno molto diffuso a questo punto della storia lo usereste? ho provato per due settimane ad utilizzare tinder e ho provato perché in realtà l'ho sempre criticata ma sempre dato fastidio che mi sembrasse un po' un mercato del sesso o un mercato dell'amore nel caso poi si trovi si dovesse trovare l'amore e la cosa che stona è la parola mercato insieme amore o sesso con entrambe l'ho provato queste due settimane ne sono uscito peggio di prima perché mi dava proprio un senso di ansia dover costantemente scartare selezionare la persona attraverso un imam ma poi devi fare velocemente poi devi hai poche poche selezioni perché sennò devi pagare se vuoi vedere quelle che ti piacciono davvero adesso qua ti diamo un po' gli scarti vedete come funziona poi devi scrivere poi sono due o tre poi uno poi insomma non va bene nessuno poi vanno bene tutti non si capisce ma ha provocato parecchie ansie sono generalmente una persona tranquilla quindi chissà se il problema è mio o di tinder io invece il problema che ho trovato principale semplicemente dal mio uso che ne ho fatto anch'io per poche settimane quello che ho concluso è che non capisco niente di un'altra persona da una foto che sceglie lui di mettere in un profilo non capisco niente e perché appunto è capitato che magari che io abbia incontrato un match e semplicemente poi quella persona non mi interessava nonostante magari in foto fosse carina ecco non capisco niente della persona da una foto beh scopriamo veramente ci sono mille sfumature il sesso occasionale può vabbè indubbiamente è soggettivo questo l'abbiamo capito e ha veramente mille sfumature ma quindi per dare un po' una chiosa una linea guida una linea guida o un qualcosa come possiamo terminare questa innanzitutto dando appunto qualche indicazione su come approcciarsi a questa esperienza anche in termini proprio di sicurezza magari non so prima si parlava di questa possibilità anche di incontrare qualcuno che non sia proprio ben intenzionato quindi una strategia potrebbe essere quella per esempio di avvisare la migliore amica guarda che sono nella via X con la persona X se mi succede qualcosa tu devi assolutamente informiamo qualcuno di fiducia poi ecco anche bravissima Giulia citava le malattie sessualmente trasmissibili tante situazioni insomma che possono sfuggire di mano in una condizione di insicurezza quindi giocare molto di anticipo su tutto ciò che può farci sentire al sicuro immagino Gaia cos'altro possiamo aggiungere perché comunque magari c'è gente che ci vede dice però un'esperienza così me la farei perché magari dà anche quel quid quella cosa che manca un po' nel proprio corredo ma sì io dico sempre di ascoltarsi di non essere giudicanti con se stessi e se sentiamo che è un'esperienza che abbiamo voglia di fare perché no di farla in sicurezza ovviamente dobbiamo accertarci che anche la persona dall'altra parte sia consenziente essere onesti e rispettosi dell'altro e ricordarsi anche che può essere un'esperienza leggera appunto come dicevo prima in cui ci permettiamo anche di magari essere un po' più centrati su di noi sul nostro piacere quando all'interno di una relazione siamo sempre sull'altro e quindi anche permettersi magari un po' di sano egoismo un po' di sano egoismo però appunto sempre in contatto con come stiamo cioè deve essere una cosa che abbiamo voglia di fare e poi come giustamente diceva Ale attenzione e precauzioni sempre ok quindi chissà che non diventi anche un'esperienza intensa anche magari di più di quando c'è il sentimento non è detto che le due cose sganciate non portino appunto a questo piacere e poi chissà se Antonello Venditti aveva ma c'è sesso senza amore boh ma chissà eh secondo me sì scopriamolo se può fa eh insomma c'è un ventaglio di possibilità comunque secondo me poi c'è insomma anche questa porta del proprio tempio sacro che è il proprio corpo e si apre soltanto quando c'è il consenso questo è il tema base probabilmente insomma di tutti gli incontri di questo tipo quindi insomma sempre asticella dell'attenzione molto alta quando si sceglie il partner o la partner c'è una perla lo sento non so se c'è sesso senza amore ma si può anche amare per poco wow il nostro Jacopo è arrivata tutta ragazzi stupendi grazie di cuore la prossima volta però poi ce lo dice ce lo dite se nel frattempo qualche esperienza di questo tipo vi ha un attimino accarezzato la mente e anche il corpo eh fatecelo sapere ciao Giulia grazie mille ciao Jacopo ciao Ale e ciao Nati ciao Gaia grazie ciao ragazzi alla prossima sigla Sex Box un podcast prodotto da RSI Radio Televisione Svizzera